Le urne non hanno rivelato sorprese. I sette comuni della provincia di Pesaro Urbino, convocati al voto domenica e lunedì per eleggere altrettanti sindaci e relativi consigli comunali per l'amministrazione del prossimo quinquennio, si sono incanalati sulla strada della continuità e su una novità annunciata. La novità è quella di Massimo Berloni, che a Fossombrone era dato per favorito alla vigilia del voto e che le urne hanno premiato con una percentuale vicina al 60%, capace di spazzare via i tre concorrenti in lotta e riducendo a un risicato 8% la candidatura della pentastellata Gloria May, che rappresentava l'unico tassello di continuità con la giunta uscente di Gabriele Bonci non ricandidatosi alla poltrona di primo cittadino. Un'eccezione su una tornata elettorale che ha altrimenti premiato la strada della continuità in tutti gli altri comuni, soprattutto a Mondolfo dove viene riconfermato con una vittoria schiacciante Nicola Barbieri. Il sindaco viene rieletto spazzando via la concorrenza di Anteo Bonacorsi con un 84% di preferenze che significa aver vinto in ogni quartiere. A Fermignano e a Mondavio vengono rieletti Emanuele Feduzzi e Mirko Zenobi con vittorie nette sugli sfidanti Betonica e Martino. Strada della continuità anche accoglie al Metauro, dove l'assessore Pietro Briganti, rappresentante della giunta a fine mandato, viene premiato col 63% dagli elettori dell'unione di Saltara, Serrungarina e Monte Maggiore al Metauro. 100% di preferenze invece per Filippo Gasperi a Gradara e Omar Lavanna Mercatino Conca che correvano in lista solitaria senza opposizione e con unico nemico l'astensionismo alle urne. Pericolo schivato in scioltezza da Lavanna che aveva già raggiunto il quorum del 40% delle preferenze nella serata di domenica, mentre a Gradara l'elezione è risultata valida con un 46% che ha scongiurato il commissariamento solo in tarda mattinata. Un dato di affluenza che diventerà materiale di riflessione, visto che all'ombra della Rocca più di metà dei gradaresi si sono astenuti dalle urne.